Potrebbe slittare addirittura la prossima settimana la composizione ufficiale dei nove gironi del campionato di Serie D 2015-2016, prevista per domani. C'è ancora infatti molta nebbia, dato che il caos della Lega Pro ha determinato situazioni di difficoltà anche per la quarta serie. Ci riferiamo in particolare agli ultimi ricorsi presentati da Seregno, San Benedettese, Taranto, Viterbese ed altre formazioni per un posto nella stessa Lega Pro in sostituzione del Castiglione. Negli anni precedenti la composizione dei gironi avveniva prima del Ferragosto. Le ultime indiscrezioni riferiscono di un Parma inserito con tutte le squadre emiliane e con quelle delle province di Verona e Padova, con esclusione però delle formazioni romagnole. Secondo altri fonti, invece, Parma e Piacenza verranno divise con i biancorossi destinati al Girone Lombardo, per evitare insomma di mettere due galli nello stesso pollaio. Intanto, sul fronte mercato, resta calda la pista che porta a Ferdinando Sforzini. Il Parma è determinatissimo, Lentella, proprietaria del cartellino del bomber, è favorevole all'operazione. Il giocatore deve convincersi però al 100% nell'accettare la discesa in D, avendo diverse offerte dalla B. Un altro sì, atteso nei prossimi giorni, è quello del senegalese Baraye, pronto a vestire la maglia crociata ed è questione di ore, ha anche l'esperto centrocampista Miglietta. Intanto, domani alle ore 20, allo stadio Brianteo di Monza, nuova amichevole per la banda Polloni contro la formazione di casa, squadra reduce da un fallimento, esclusa dalla Lega Pro e ammessa alla D. Per quanto riguarda la programmazione della nostra Teleeducato, invece, dopo domani, come ogni giovedì, appuntamento con Calcio e Calcio più estate, in diretta alle ore 21, con il punto della situazione su mercato e avvicinamento al campionato.